ecco c'è una cosa che volevo dirti oggi ti posso dare una garanzia che è questa se tu vai da un cliente un potenziale cliente e gli dici qual è il suo bisogno perché ti hanno spiegato che questa storia dei bisogni è fondamentale che tu i bisogni devi farli emergere devi farli tirare fuori devi generarli addirittura nel cliente ecco io ti posso assicurare che ti darà una risposta sempre la stessa e sempre secca non ho bisogno di niente e soprattutto non ho bisogno di te la domanda che oggi funziona non è più questa devi cambiare domanda devi fare un'altra domanda la domanda che devi fare mi scusi mi sa dire qual è il suo obiettivo perché hanno tutti un obiettivo non c'è nessuno che non abbia un obiettivo ed è un obiettivo sfidante un obiettivo difficile da raggiungere se fosse banale gli avrebbero dato più grande evidentemente allora quello che tu puoi fare è chiedergli qual è il suo obiettivo per aiutarli a raggiungerlo perché quello che tu puoi fare è aiutarlo a superare i problemi che si frappongono fra lui e il suo obiettivo e che rischiano di non farglielo raggiungere allora quello che tu realmente puoi fare è dargli delle soluzioni però c'è un problema il problema è che se tu chiedi a qualcuno qual è il suo obiettivo la risposta che il più delle volte possono darti è ma tu chi sei perché io te lo devo raccontare il mio obiettivo devo raccontare a te e questo è il problema del personal branding tu devi essere sufficientemente autorevole per poter avere la reputazione giusta sederti davanti a quel signore e dirgli scusi ma qual è il suo obiettivo e lui non desidera altro che raccontartelo non desidera altro che farsi guidare da te a superare quegli ostacoli che lui da solo non sa superare grazie alle tue soluzioni sei pronto a fare questo